Armillaria mellea o chiodini vegetano sui tronchi di faggio e abete, tronchi in putrescenza, se ne cimano, quando poi è finito il mangime l'albero non produce più questi chiodini, chiodini o armillaria mellea, si tratta di tutti quei funghi che adoperano le industrie conserviere per fare il famoso pronto fungo, sono soltanto chiodini o armillaria mellea, mellea dal colore del miele,